Ciao ragazzi, mi stringo fortemente alla scomparsa del nostro Pelè Bianco, del nostro fratello Juventino, bianconero di cuore, una umile persona, l'idolo dei Juventini degli anni 70, il nostro Pietruzzo Anastasi, detto Pietruzzo Uturco, a Catania ci dicevano. Oggi mentre parlavo con mio papà a telefono mi ha raccontato un po' di storia, perché ogni tanto è anche bello che si raccontano queste storie, perché ricordiamoci ognuno di noi abbiamo la storia e ci siamo accorti che tra me e il buono Anastasi, soprattutto tra mio padre e lui, c'è stata un'analogia, una biografia di storia diciamo abbastanza simile, perché noi siciliani del sud che diciamo Juventus e poi siamo emigrati al nord per lavoro e lui ha fatto la stessa cosa, perché ricordiamoci che per loro il calcio era passione ma era anche praticamente pure, diciamo, lavoro. E mi raccontava questo particolare che Anastasi all'epoca non lo voleva, il trapano di calcio, quando era giovane, non lo voleva il trapano di calcio, ha fatto il provino con il trapano, ha fatto il provino con il Palermo. Non è stato preso all'epoca, poi è andato a giocare in una squadra dilettantistica, mi pare che si chiama Massimignani, una squadra dilettante di Catania, un direttore sportivo del Varese ha perso l'aereo e è andato a Catania a vedere una partita di Serie D a Cibali e ha visto, c'era questa partita a Catania con una squadra dilettantistica e allora ci ha visto il suo giocatore e dice viene a giocare con il Varese e quindi questo da siciliano, da niente, vedi, ha levato un osservatore, l'ha preso e l'ha portato a Varese e poi praticamente, la Juventus è al nord, è più facile che un osservatore, diciamo, Piemontese, anche Lombardo, che vedono questi giocatori siciliani e l'hanno praticamente, l'hanno fatto giocare, l'ha preso la Juventus, cioè vedi come è la vita alle volte, sono cause, come si dice, cose belle che uno deve anche dire, sono storie, biografie da raccontare. E il mio padre, giustamente, oggi era triste perché dice, per me era il mio idolo, negli anni 70, questo Pietruzzo Anastasi, lo chiamavano il Pelè, il Pelè bianco, perché ragazzi era proprio, no, dopo Pelè, era proprio forte, 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 non era forte a palleggiare, di quando era proprio, era proprio, correva, dice, era proprio fortissimo, dice, poteva essere proprio, guarda, lo definivano il Pelè bianco, proprio, sembrava Ronatori, con noi è rimasto, ha giocato otto anni nella nostra Juventus, 130 gol in otto anni, tre scudetti vinti, quindi oggi niente, oggi, tristezza nella nostra casa bianconera, tristezza, tristezza, oggi, io penso che domani Juventus-Palma ci sarà, penso, ci sarà un minuto di silenzio, ovviamente si giocherà con lutto a braccio, perché abbiamo perso veramente un fratello juventino, una persona per bene, ogni tanto io lo guardavo a Tele Lombardia, anche per come le sue dichiarazioni, va sempre pagato, sempre misurato nelle sue dichiarazioni, ragazzi, quella è l'icona del caccio, poi quando si parla certe volte di stile Juventus, ecco, Pietro Anastasi era la Juventus, apparteneva allo stile Juventus, uno stile Juventus che oggi come oggi o mai, secondo me, anche è finito, no? Mi dispiace, mi dispiace, perché oggi, sentendo mio papà, era triste, capito, quindi, perché si ricorda la sua gioventù, capito, quindi siccome io sono una persona, cioè, se io guardo è triste, penso a un figlio, no? Che capisce, no? In passato, queste persone, questi uomini, questi valorosi guerrieri, che hanno praticamente, hanno, come si dice, hanno amato il caccio, che adesso il caccio è odio, oggi, i tempi di Anastasi, i tempi di mio padre, quello era il vero caccio, quello era il vero, come si dice, la parola sport, capito? Quindi, niente, volevo fare questo video messaggio anche alla famiglia Anastasi, mi dispiace, dice che poverino era malato, che aveva la SLA da tempo era malato, quindi, sincere condoglianze alla famiglia Anastasi, ciao Pietro, grazie di cuore per tutto quello che ha fatto alla Juventus, mio padre mi ha raccontato di te, mi raccomando, insegna agli angeli, no? Come si gioca a calcio, amico mio, grazie di cuore per tutto quello che ha fatto nella nostra storia, Pietruzzo Anastasi, detto Tucco, top player, sarai sempre nei nostri cuori, io non ti ho conosciuto tramite video, ma per come me l'ha raccontato, eri un super top player, quindi mi raccomando Pietro, un giorno ci rivedremo tutti quanti, capito? Va bene? Un bacione grande, ragazzi, che buono, troppo, quando cammo queste cose c'è tristezza e oggi noi juventini siamo molto tristi, devo dire la verità, siamo tristi, tristi, ciao Pietro mio, un bacione.